Comunque vorrei dire una cosa, però voglio dire prima, innanzitutto che non c'è nessun piazza colore, si concludono con qualche problema, è inutile che venite da un lato a cercare cristalline dei lupini perché gli accucciarono affitto a tutti quanti, a me mi hanno chiesto di esprimere un parere, e io che non c'erano un mucco non mi sanno tenere, dico quello che pensi, va bene, ecco qua, andiamo avanti. Ma hanno detto, che ne pensi dei bambini di oggi rispetto ai bambini di una volta, a tutte queste norme, a tutta questa sicurezza, le norme europee e compagniabili? In una sola cosa volessi capire, io volessi sapere come sangra la colonna avevamo fatto noi, i bambini degli anni settanta e ottanta, a campagna, arrivare a vivere invece di fine e me, che quando viaggiavamo in questa macchina non sapevamo manca che ero seggio l'uno, e cinturino in questa macchina non c'erano proprio, mostrano l'airbag a destra, a sinistra, il passeggero, il vigile che ferma i miei cavi, il bordello annanziarete, l'assistita della frenata e tutto ora è stato preso. Noi quando eravamo a mare, eravamo sei creatore e due adulti, una coppa di notte, una coppa di cruscotto, una coppa di terribie, una coppa di cosi, e si attocca e si fa minucce, una coppa di frenare a mano per fare un cuore, uno per la destra e la destra e la sinistra, e si arrasta tutti i suoi sconchiavano i bagagli, un coppa di ditta, mentre si camminava, un anno noi cacciavamo una coppa di frenesiella e con il busto di fuori acconchiavano i bagagli, un coppa all'autostrada a una volta all'ora, perché il 128 tanto fa sì, una volta all'ora, con un radiatore acconchato con un sparatrappo, non sapevamo manca che era la revisione, e non è mai successo niente, e mi amare e ci ha divertito, ecco qua, poi è giocato, non è giocato, la playstation, tutti questi videogiochi, si cosa che si rimbambisce, non sapevano la televisione, e weee, la città parte di fuori, vi teniamo il cazzo che mi ha fatto i servizi in questa casa, tornavamo in casa a te lazzariato, i ginocchi tutti spaccati, e con il sangue fuori sottavamo sotto la macchina per prendere i palloni e ci spurcavamo i miei feriti e i grassi, non c'è mai venuto a dettare a nessuno, se andiamo alla scuola, la maestra si arriva con qualche buffettura, a casa la mamma si arriva pure un ristro, e diceva la settimana che bene venga a scuola e si porta una bella crosta da quella santa donna della maestra, e se a buscavano i miei compagnoli dicevano, vedi, portati in mazzata a casa, e se vedi che hanno fatto buono, potranno ancora un ristro, oggi non c'è la mia mamma che è una creatura, una maestra, ci torciano i capi, le parti nelle denunce, le tribunali, la polizia, i carabinieri, noi non c'è mai visto questa roba, e se la mamma resta su e sta dicendo, non è una creatura, devi studiare, devi dare d'affare, è capace che lui si mette la coppa a basso perché c'era una depressione, noi eramo bocciati a scuola, perché l'anno non succedeva niente, mi chiamo il psicologo, il psicologo, il psicologo, tutto riesco a presto, tutti questi scienziati che erano una vera che erano a fare, semplicemente non c'è ne studiare, non fa pizza, dai tuoi sangue e si adappiare la licenza a metà, punto e basta, la roba sembra uno mestiere, è questo? Basta, il cibo poi, non ne parliamo proprio, e mi rendi un mulino bianco che interferere, tutte le cose artefatte, tutte le cose industriali, fanno le panno bagnate sotto la fontana, un filo di ruolo di oliva, una pizza che salta, una pomarola sciattata da coppa, vai mamma mia, il piretino è caldino e fanno se fanno, e con il pallone si spaccavano, facevamo un burdello, salivamo un coppa in montagna, lì nelle cantiere, in montagna e sabbia città, ma coppa a basso, andavamo a casa con un bombolone, la capo sotto all'acqua fredda, ne provo che chiaccia e ti passava paura, e loco, e basta! Trent'anni fa, a Spesas facevamo in un mercato, a frutto e a verdura, a roba a rullano, e ti va a correre nella terra sui, e poi ti portavamo in un mercato e ti prendevamo un coppo di rotto, ma io ero in un supermercato, ci vuole l'etichetta, la busta con la retina, devi capire la provenienza, vai a vedere, l'arancia viene dalla Spagna, il melo viene dalla Svizzera, il pommarolo viene dalla Cina, e il pesce viene dalla Norvegia, torna a casa e le devi sterilizzare, perché sennò c'è la truppa che l'infezione, e allora metto la mucina, la parecchina, la creolina, ma io d'affa, quattro, marrona mia, e mi dico che mi mosca la lingua, non mi faccio parlare per piacere, che non mi piace con i figli. Allora, un merito al mattino era festa, colazione con Zabbaglione e Camarsala, la roba umma um, senza che nessuno ti vede, io ti faccio un piccino di Marsala e ti buttavo in dalle capei morti, l'uovo e pigliava sempre in tuo mercato, e dal signore che sotto il banco non teneva i gallini, tu guacavano annanzate l'uovo, ma invece li ha cattato in tuo mercato, le uova piccole, le uova medie, le uova medio-grandi, le uova grandi, le uova grandissime, allevato a terra, allevato uno a uno, allevato tutto quanto assieme, si hanno mangiato i semi, non si hanno mangiato i semi e si hanno mangiato i poveri, è tutto munnezzo, ma che vuoi di che fare? In me parlando, si dovete fare una creatura umiera, la guardia medica, ospitalo, pronto soccorso, l'acchipirino, acqua, acqua e zucchero, capisci che c'è una creatura? Hanno passato 3-4 giorni a stare in dolore e non c'è scasso cazzo, hanno lanciato la televisione e sei pure contento che non fai la scuola, il termometro teneva un mercurio e quando si scassava era bello appazzia che pallina di mercurio, poi non c'è che veneva un tumore, ma il termometro li ha a mettere in fronte, le dalle reti, le dalle forze in culo e non lo sape quanto spazio in me freva dentro le creature, ma faccio che ci piace!